Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Il vlog di oggi lo dedicherò al Q&A ovvero alle domande che voi mi fate ed io cercherò di rispondere. Prima di iniziare con il vlog volevo darvi una comunicazione. Mi sono iscritto alla piattaforma di Patron quindi è possibile fare una donazione che andrà a vantaggio mio cioè del canale. Io in futuro non vi annoierò più con questa storia. Metterò il link sotto se volete fare una donazione la fate. E ora partiamo subito con le domande e le risposte. La prima risposta che do anche perché è una domanda che mi avete fatto in tantissimi è relativa al video che ho fatto di Marco Bracca. Innanzitutto ecco vorrei dire che non è stata fatta nessuna domanda o non è stato mandato nessun commento che fosse relativo al merito di quello che io contesto a Marco Bracca. Ovvero le cose che ho detto, le inesattezze che Marco Bracca ha presentato nei suoi vlog nessuno le ha difese, nessuno ha difeso il merito di quello che Marco Bracca ha detto. Io ho parlato nel merito, ho parlato di orologi. Quello che mi viene contestato nel diciamo il 50% dei commenti perché poi il 50% naturalmente era a favore di quello che sono state le mie esternazioni per cui non le commento. Oggi rispondo a quelli che invece hanno criticato quel mio video. Allora nessuno di loro parla nel merito di quello che io ho detto. Parlano tutti dell'opportunità che io avevo di fare o non fare quel video. Io dico che normalmente questa è una cosa che faccio da quattro anni, cioè da quando ho iniziato, quasi cinque anni, da quando ho iniziato questo vlog, questo canale, questi canali. Io ho sempre cercato di rispondere a tutti e voi potete, chiunque può confermarlo, magari rispondo dopo tre, dopo quattro giorni, ma ho sempre risposto a tutti. Magari mi può succedere che una domanda mi salta, ma la mia idea è sempre stata quella di avere un rapporto diretto con voi, con chi mi fa le domande. Io ho sempre cercato di dare una risposta. Le domande che vengono fatte sempre ripetutamente, io cerco di fare un video dove rispondo a quelle domande, così poi in futuro, siccome mi saranno fatte le stesse domande ancora su Marco Bracca, io li rimanderò direttamente a quel video che ho fatto e spero di non tornarci più perché veramente per me è una noia mortale vedere quei video lì, cioè non è un canale che io di mia spontanea volontà, ma non conosco neanche nessuno sinceramente, delle persone che conosco, che si occupano di orologeria, che seguono Marco Bracca, per cui a me è durata anche fatica doverlo guardare, però l'insistenza delle domande che mi è stata posta soprattutto negli ultimi mesi ha fatto sì che si è creata non solo l'opportunità, ma il dovere di dover fare questo video. Allora il video sarebbe stato inopportuno se io avessi detto delle cose inesatte, allora a quel punto lì qualcuno ha anche detto che avrei dovuto correggermi o avrei dovuto chiedere scusa, ma chiedere scusa di cosa? Ma che qua nel mondo non si può più criticare una persona nel merito, nel merito dell'orologeria. Io mi occupo di orologi, non è che mi occupo di formaggio o di quadri, di arte, che allora uno dice va bene ma te ti occupi di arte perché sei andato a finire negli orologi? No, io mi occupo, ho un canale di orologeria, chi è che deve criticare? Se naturalmente io non è che vado a cercare la critica perché ripeto non mi interessa andare a vedere Marco Bracca, sinceramente ne faccio a meno, ma se ripetutamente mi viene fatta questa domanda per sei mesi e i commenti che ci sono stati, le visualizzazioni che ci sono stati mi danno conferma di quanto era sentito perlomeno del 50% delle persone. Il fatto che questo tema fosse portato sul tavolo allora vuol dire che è giusto, è giusto parlare anche di Marco Bracca, ritengo che sia giusto parlare di tutto quello che riguarda l'orologeria. Spero insomma di aver risposto a questa a questa domanda e nel futuro parlerò di tutte, parlerò avrò un mio programma dove parlerò di contenuti che penso io ma come sempre ho fatto voi sarete sempre al primo posto nel senso che le domande che mi fate io se riguardano naturalmente l'orologeria io sempre risponderò o cercherò di rispondere con i tempi naturalmente che posso mettendo insieme le più domande rispondendo per mail e rispondendo ai commenti. Potete guardare tutti i commenti che ho e potrete vedere che io ho sempre risposto a tutti questo credo che non si possa negare. Andiamo avanti allora ora vorrei rispondere in particolare a un gruppo così che è il gruppo Seico 1881. Allora il gruppo Seico 1881 deriva dal famoso gruppo Whatsapp credo che siano più o meno gli stessi più o meno insomma grosso modo e vi metto sotto in descrizione il link del loro ora è un forum quindi vi metto in descrizione questo forum e insomma ecco dateci un'occhiata qui è pieno di informazioni sulla Seico e di approfondimenti ecco sul tema della Seico quindi vi invito ad iscrivervi. Allora il gruppo Seico 1881 ha fatto una puntualizzazione al video che ho fatto sul Seico 6139 non è il primo cronografo automatico che è il blog numero 7. Allora andiamo a leggere che cosa dice il gruppo 1881 forum. Il gruppo 1881 intende fare delle puntualizzazioni essendo argomento a noi caro frutto di anni di ricerca ci sentiamo in obbligo e non puoi smentire quanto sentito in questo blog del signor Cecchini confonde clamorosamente l'invio di prototipi ai distributori esemplari chiaramente non in vendita con l'effettiva uscita sul mercato e qui naturalmente dimostrerò poi nel continuo del video che sono errori e sbagliano in questa sbagliano in questa cosa perché io ho delle fonti o delle notizie certe che questi non erano campioni a marzo quando il gruppo cronomatic fece la presentazione la famosa presentazione che fru a ginevra new york e tokyo beirut e poi nel nel proseguo della della puntata vi dirò qual è il mio qual è la mia fonte nella fonte da lei riportata c'è scritto molto chiaramente questo passaggio ok cioè nella nella fonte che io ho messo c'è scritto che furono commercializzati c'è scritto questo passaggio che erano che erano prototipi certo perché quella fonte era antecedente alla scoperta che è fatta che è stata fatta poi nel 2015 non è un segreto che seico iniziò la produzione di massa del 61 39 a nel gennaio del 1969 e sono d'accordissimo per essere precisi in tale data iniziò verosimilmente l'assemblaggio degli orologi verissimo è chiaro che la produzione di serie del calibro avvenne prima dunque l'ipotesi che seico utilizzò le prime produzioni come banco di prova appare come una teoria abbastanza fantasiosa ma le teorie fantasiosi certe volte sono la verità mentre la commercializzazione dalle fonti a noi pervenute sua newsletter 1969 di giugno è nel maggio dello stesso anno allora questa fonte di cui loro parlano sua newsletter in realtà non è una fonte perché è una comunicazione interna ovvero nello stabilimento interno di seico di sua venivano tutti i mesi come nelle aziende quelle grandi venivano presentate venivano mandate delle newsletter a tutti i dipendenti che facevano che informavano i dipendenti con i nuovi prodotti per cui è una documentazione fragile nel senso che è una documentazione interna non è una un evento che è stato ufficiale che può essere ritenuto ufficiale è soltanto una comunicazione interna è vero è vero la newsletter è di giugno per cui si può pensare che fosse maggio il mese di introduzione dei degli orologi del 61 39 beh certo se questa newsletter è di giugno avvertiva dell'entrata in commercio a maggio e su questo siamo siamo d'accordo anche la stessa mia fonte ha detto la stessa cosa autorevoli testate citano come data di rilascio al pubblico del cronomatic verso il luglio agosto del 69 questa è la commerciale questa è la commercializzazione di massa a luglio agosto rimane il fatto che il consorzio svizzero intraprese la scorciatoia di produrre un calibro cronografico automatico modulare vabbè allora che cosa vuol dire se era modulare ecco qui si fa una qui c'è un problema di contestualizzare cioè oggi e in parte anche a ragione si considerano i movimenti integrati come superiori lo sono di fatto perché un movimento cronografico integrato è anche più facile da da farci la manutenzione per cui tra le altre cose a diverse a diversi pro ma all'epoca un cronografo automatico modulare era soltanto una via nuova di produrre un cronografo automatico per cui questo il fatto che sia modulare è un vanto euer dice chiaramente che è stato il primo giustamente cronografo automatico modulare quindi è un vanto per loro non è che modulare è una scorciatoia la parte cronografica è stata fatta da debois de pra cioè uno dei più grandi una delle più grandi aziende che in quel momento lì lavoravano per i più grandi marchi per cui era un'azienda terza che lavorava per i più grandi marchi in quel momento lì non che zenith avesse dei personaggi all'interno dei tecnici meno validi ma debois de pra era considerato il top ecco tra tra le aziende top che si occupavano di cronografi per cui non è così scontato questo è un errore che si fa perché fare un fare un movimento modulare cronografico automatico non era di per sé una cosa così scontata perché naturalmente c'è il contro di avere uno spessore alto per cui si andò a cercare un movimento innanzitutto molto affidabile ma che avesse anche un micro rotore che desse la possibilità di costruire un orologio che non fosse troppo spesso per cui si qua si banalizzano si banalizza il fatto che sia stato un un movimento modulare quando fu il primo cronografo automatico modulare poi lasciamo perdere se ha avuto successo o non ha avuto successo ma io tra l'altro ricordo che i cronografici crono i movimenti cronografici modulare esistano anche oggi cioè il tag oyer o oyer oggi si chiama monaco utilizza un modulo un modulo sellita oggi con la parte cronografica sempre de bois de pras per cui anche oggi esistono per cui non è che è così è stato sconfitto no cioè nel senso è stata questa è una banalizzazione che non tiene conto invece della della storicità dell'innovazione che poi in futuro il futuro sia andato che oggi i cronografi integrati vengano considerati migliori sono d'accordo ma non si può giudicare non si può giudicare la storia con il nostro metro di oggi è sbagliato a tutti a tutti i livelli non si può studiare la storia mettendoci nella con la mentalità di oggi sarebbe un errore un errore gravissimo continuiamo a differenza di seiko e zenith che produssero rispettivamente il primo e il secondo cronografo automatico integrato nella storia ok diciamo siamo d'accordo alla luce di quanto esposto il titolo del video numero 7 il secolo è non è il primo cronografo automatico forse andrebbe rivisto poggiamo distinti saluti a lei la sua comunità la moderazione agli utenti del gruppo 1881 allora la risposta la risposta in merito a questa domanda la do subito allora ci vogliono delle ci vogliono delle fonti certe in tutta questa storia ci sono delle evidenze certe ovvero ovvero sono stati fatti da queste da queste aziende delle conferenze delle conferenze che sono state riportate da giornali nel caso di zenith fu riportato da dei giornali dell'epoca che zenith aveva fatto questa conferenza dove aveva presentato uno sicuramente forse due o tre campioni di cronografo ok automatico integrato questo a gennaio allora questo signori non è non hai le prove questo è un fatto questo è un fatto documentato dove c'erano dei terzi cioè giornalisti dove c'era un'azienda che produceva delle persone che erano che erano lì presenti per cui non si può dubitare benché fosse una conferenza piccola come come sappiamo soltanto in svizzera soltanto dei giornali locali se ne sono occupato benissimo ma pur tuttavia un un evento documentabile per cui se una persona viene da me e mi dice zenith è il primo perché il primo perché il primo cronografo automatico punto io non posso far altro che dirle ragione in questo senso io non posso dire niente perché lui ha in mano una un evento reale un evento che può essere tranquillamente verificato questo è importante a marzo abbiamo un evento ancora più grosso ma successivo ovvero abbiamo il gruppo cronomatic che presentò a tokyo a ginevra a new york a beirut presentò 20 20 20 campioni chiamiamoli chiamiamoli così che poi non sono non sono campioni e lì è il punto è il punto che poi risponderò ma me lo lascio nella 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 seconda domanda tutto il resto tutto il resto è basato sul nulla ovvero questa come ho già detto questa newsletter ora vado più nello specifico a parlare di questa di questi documenti che avrebbe la la seico allora partiamo subito dal dal primo documento nel 1995 1995 viene portato praticamente al è un documento che viene chiamato seico la storia del degli orologi dalla seconda guerra in poi ecco ora se traduco così velocemente ed è al al museo della seico di tokyo che io tra l'altro ho visitato ecco in questo in questo documento si evince che c'è praticamente un una data e si parla di marzo ovvero c'è il numero della referenza del movimento 61 39 poi c'è scritto marzo c'è una scheda poi tutti questi documenti ve le metto poi dopo in descrizione così li potete andare a vedere ma non vi è da nessuna parte scritto che cosa identifica cioè se identifica la produzione se identifica la presentazione se identifica non si sa c'è una scheda una scheda dove c'è scritto marzo punto che un documento che tra l'altro è stato presentato nel 1995 cioè ma anni 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 dopo quindi ma cosa non ha non ha né capo né coda è comunque un documento interno sarebbe è un documento interno di seico presentato 25 anni dopo la sua 25 anni dopo la cioè la stessa lo stesso produzione del documento per cui ecco qua questo è il primo il primo documento che abbiamo che non vale assolutamente niente poi abbiamo un secondo documento abbiamo un secondo documento che praticamente veniva rilasciato ai a chi alle persone che si occupavano dell'aftermarket ovvero si parlava dei movimenti tra l'altro si fa riferimento al al movimento 61 39 b perché in quel momento lì siccome anche questo anche questa anche questo documento è stato presentato sei o sette anni dopo il 69 nel 76 cioè questo è un documento del 76 non del 69 questo documento del 69 questo documento riporta che il movimento 6139 b perché in quel momento lì c'era solo il b non c'era il 6139 a era disponibile da maggio del 1969 quindi questo documento per quanto almeno sarebbe un documento che è stato portato fuori sebbene nella diciamo nella della catena no di dell'aftermarket chiamiamolo così di seico ma questo fa riferimento a maggio dopodiché abbiamo la famosa newsletter che appunto parla del 61 39 però cioè è un documento interno e comunque si può far si può considerare anche questo da un'indicazione di la newsletter di giugno e da un'indicazione di maggio ecco ecco fatto quello che c'è cioè tutti i documenti interni non c'è una conferenza non c'è un giornale di settore non c'è niente niente non c'è nulla cioè questo il primo documento tra tutti questi qui è stato fatto ora il primo non so la newsletter c'era ma era un documento interno quello che è almeno uscito chiamiamolo così dalla fabbrica è del 76 per cui insomma veramente i documenti non ci sono ecco quindi il video che ho fatto io e che e che ho detto cioè dicendo il secolo 61 39 non è il primo cronografo automatico è perché non ci sono le fonti signore al signori al di là del fatto che possa essere anche l'eventualità che potesse essere stato ipoteticamente il primo la seico si è mossa male quantomeno ora andiamo così tanto torneremo poi anche sulla su questa questione qui poi dopo ci ritorneremo andiamo ora a rispondere alla domanda che fa manuel maggioli che fa sempre parte del gruppo 1881 però si è sentito di mandare insomma le sue considerazioni allora stefano oltre a confermare quanto evidenziato dal gruppo 1881 al quale come tu sai appartengo voglio aggiungere quanto segue il tuo vlog non è basato su documenti o su dati oggettivi qui dimostrerò che non è così ma solo su tue personali interpretazioni ma non è vero naturalmente emmanuel ne sa fino a un certo punto ma io avevo già la carta avevo già l'asso nella manica il vlog è carente sotto il profilo logico anche perché tu stesso fai un uso continuativo del prefisso ipotetico per me ma io utilizzo per me perché dipende da che cosa facciamo riferimento se noi consideriamo il giorno in cui fu presentato il primo cronografo automatico dobbiamo per forza di cose riconoscere che zenith fu il primo per cui se noi diamo riconosciamo e partiamo da questo presupposto tutto il resto cade cioè le unici le unici fonti sicure e che possono essere riscontrate anche da terzi sono sono queste conferenze il resto è tutta carta di roba interna che non vale niente se vogliamo andare avanti ad analizzare anche questi documenti cioè che comunque non sono ufficiali ma non sono ufficiali quindi non vagano praticamente nulla ma comunque analizziamoli io dico questo ecco perché dico per me se ti basi su elementi oggettivi non esistono per me e infatti il primo è stato zenith se ragioniamo in questo modo ma a quel punto lì il vlog è finito e cioè ognuno torniamo è finito anche il divertimento insomma inoltre nessuno sa cosa disse i tiratori nel famoso incontro del marzo 69 allora qui ricontrollate perché secondo me vi siete c'è un errore di traduzione nel forum ricontrollatelo io gli ho dato una guardata così non sono sicuro matematico però ho dato una guardata nel forum e ho visto mi sembra un errore di traduzione ovvero i tiro attori nessuno ha mai detto che andò alla presentazione di alla conferenza del gruppo cronomatic nessuno l'ha detto invece ho visto che è stato scritto e qui riporta infatti marzo questo secondo me è legato a questo errore di traduzione cioè i tiro attori andò a basel world io ho visto anche nel documento della traduzione dice ma poi non si sa neanche se c'era no signori c'era senz'altro cioè questo è documentato che i tiro attori andò a basel world ad aprile questo è sicuro non ci sono dubbi poi quello che disse a jack hoyer è un altro discorso e ora lo vedremo 69 fonti giornalistiche ritengono che attori intenzionalmente omise ogni riferimento al movimento 6139 che a marzo era in produzione già da più di due mesi sì sì d'accordo dato oggettivo e comprovato dai seriali gennaio 69 ma io su questo posso essere anche d'accordo anche se anche se da fonti giornalistiche anche parlano parlano io non ci credo è sinceramente però c'è qualcuno anche che parla di falsi c'è anche qualcuno e sono insomma anche testate giornalistiche importanti io comunque non ci credo io credo che a gennaio del 69 fosse stato prodotto questa è una mia idea per cui ogni elucubrazione sul fatto che attori nulla disse limitandosi a fare dei complimenti non ha alcuna rilevanza nella ricostruzione della vicenda che ci occupa beh beh non so perché cioè qui parliamo insomma di persone di spessore no cioè non parliamo del primo del primo di gente insomma che l'ha portata la piena ecco parliamo insomma di jack hoyer no che poteva essere smentito anche no dalla seico stessa quindi sarebbe stata anche un po una figuretta no io credo siccome qua siamo nel campo delle ipotesi perché siamo nel campo delle vere ipotesi che se jack hoyer ha detto questo comunque la sua rilevanza ce la possa anche avere probabilmente e poi alla fine dirò anche il mio pensiero naturalmente è una ricostruzione non è che è la verità sono speculazioni le mie poi alla fine vi dirò quali sono le mie speculazioni ma ora continuiamo per cui ogni elucubrazione sul fatto che attori nulla disse limitandosi a fare dei complimenti non ha alcuna rilevanza e costruzione della vicenda che si occupa e invece secondo me potrebbe avercela inoltre ed ecco l'altro elemento che vizia la tua tesi parli di prototipi ewer allora si parlo a un certo punto dico parlo di orologi poi dico prototipi poi torno a parlare di orologi ma perché perché erano tutte due ma dopo lo vedremo poi quando tirerò fuori l'asso nella manica ebbene tu stesso affermi di usare le parole in modo preciso certo bene vai a leggere il significato di prototipo e qualunque vocabolario della lingua italiana seico produsse da solo da sola il 61 39 gli svizzeri dovessero consorziarsi e va bene ma non c'entra nulla per poi tirare fuori dal cilindro un concettuale vetusto calibro modulare ma non era vetusto perché lì l'ho già spiegato prima e non ci torno cioè è stato il primo calibro automatico modulare su questo non ci sono dubbi e quando c'è un primo c'ha sicuramente una valenza un valore inestimabile grosso inestimabile ce l'ha perché il valore ce l'hanno infatti questi calibri 11 valgono molto no anche sul mercato e questo la dice lunga sulla struttura di seico che nel 69 era già una vera manifattura e sono d'accordo completa capace di risolvere da sola le problematiche sottesse alla realizzazione di un calibro cronografico automatico integrato e non modulare come se il modulare fosse un qualcosa da evitare però anche qui secondo me è sbagliato ragionare così perché va contestualizzato in quel momento lì e poi comunque anche oggi ai giorni nostri non è che calibro modulare allora è peggio si ripeto a queste caratteristiche che lo rendano sicuramente meno valido da un punto di vista anche della manutenzione e concludo maggio giugno 69 la data che sancisce sancisce la commercializzazione per l'export del 61 39 sul mercato interno del 61 39 uscirono prima uno due mesi prima e questo in virtù di una naturale tendenza di seico a commercializzare i prodotti prima sul mercato domestico ma seico non cercava primati lavorava in sordine non faceva gare ma invece faceva gare e cercava primati solo che fu fu a un certo punto li passò avanti zenith per cui capì che non c'era nulla da fare per cui a quel punto lì la prese la prese con calma solo oggi sui catalichi seico possiamo leggere che il 61 39 fu il primo cronografo al mondo integrato con smistamento a ruota a colonna no qui fermo un attimo perché seico non scrive questo cioè seico scrive seico prima azienda al mondo a creare un cronografo automatico con innesto verticale a ruota a colonna con innesto verticale questo è importante perché gli altri non l'avevano quindi nessuno ha detto di essere il primo ma non solo il 61 39 era l'unico tra i tre calibri zenith aeroe ad utilizzare un innesto verticale infatti lo dice per cui il 61 39 ha anche questo ulteriore elemento che lo distingue questo sicuramente ma non c'entra nulla sul fatto sulla gara in sé in modo netto le informazioni vanno date complete e più oggettive possibile elimina e per me ma non è possibile eliminarmi lì perché se io elimino e per me se io li elimino abbiamo chiuso cioè chiudiamo il blog ciao a tutti il primo è stato zenith e chiudiamo baracca e burattini andiamo via e forna e fornici più dati oggettivi avevo capito però poi dopo si finisce il video il tutto sempre con affetto e franca amicizia e su questo non ne abbiamo non abbiamo dubbi allora andiamo avanti dunque qui ricapitolo un po tutti i punti di cui ho parlato e andiamo poi a parlare ecco delle ultime due gli ultimi due fatti allora io vi do questi due l'asso nella manica che appunto che rimette secondo me tutto in in ballo è il fatto che dimostra quello che dice emmanuel lui mi dice siccome furono presentati a basilea furono presentati 100 orologi 100 nella fonte che vi ho riportato si dice che questi 100 pezzi divisi tra breitling e avere e gli altri furono poi immessi mandati dai distributori quindi cosa mi viene contestato mi viene contestato che in realtà questi non erano pezzi che sono stati poi destinati al mercato ma erano soltanto prototipi che poi non sono stati venduti e invece qui c'è l'asso nella manica ovvero nel 2015 anche qui metto in descrizione il la fonte la fonte a cui mi riferisco ecco qui è stato ritrovato proprio nel 2015 il primo cronomatic eewer per cui ci sono cioè qua c'è tutto lo studio ve lo ve lo guardate ve lo leggete con calma qua non ci sono dubbi che non aveva appunto come i successivi quelli che partirono come dite a luglio agosto non aveva la scritta autavia sopra ci sono delle caratteristiche che i successivi avevano e che questo qui invece non ha e che invece corrisponde alle fotografie che furono messe sia a basilea sia a marzo quando fu presentato per cui questo dimostra in maniera inequivocabile perché è stato trovato e c'è tutta la storia l'ha trovata una persona fisica in mano a una persona fisica non è stato comprato alla se alla ewe è stato trovato in svizzera per cui vuol dire che questo orologio andò sul mercato una maniera e quindi non era un prototipo per cui va a cadere tutto il vostro ragionamento perché se questo non era un prototipo vuol dire che andò sul mercato e siccome era già a basilea e c'è una fonte sicura che dice che a ad aprile questo non era un prototipo ma era un orologio in vendita quindi la cosa è finita finisce qui non c'è nessun tipo di speranza per per secco che abbiamo un abbiamo un documento del tutto di parte interno alla seico mentre invece qua abbiamo una una fiera di basilea dove tantissime persone sono andate hanno visto 100 orologi e poi oggi abbiamo un campione di quel di quell'orologio lì e ci sono qua vi leggete tutto e capirete che ci sono del dei dettagli si capisce bene che è l'orologio è quello lì quindi per quanto riguarda questo fatto direi che è chiuso qui insomma secco ecco il gruppo secco 1881 né in mano e non hanno niente in mano ecco non sono io posso anche io posso anche dire che naturalmente questo non non ho niente non ho niente in mano per contrastare zenith cioè se una persona mi dice il primo è stato zenith io devo assolutamente dire io non hai ragione hai ragione perché d'altra parte la zenith ha dimostrato con questa conferenza di essere stata la prima ha fatto vedere il primo orologio cronografico automatico per cui c'è poco da fare ma contro secco si può stabilire tranquillamente questo va fatto questo video andava fatto perché oggi invece viene considerato come normale che il primo è stato secco perché dall'uno a quell'altro e l'errore l'errore madre è stato quello di ritenere che la scritta l'incisione la referenza non la referenza l'incisione che c'è sul fondello del 61 39 è la data in cui è andato un commercio no è la data di produzione più correttamente di assemblaggio come dice giustamente il il forum ora voglio anche naturalmente concludere con l'ultima mia speculazione questa è naturalmente una speculazione mia è una ricostruzione un'interpretazione di quello che è successo allora io penso che la seico si sia resa conto non si sia mossa bene naturalmente non aveva neanche l'esperienza non aveva la malizia delle case orologiere svizzere per cui forse ce l'aveva l'orologio ma aspettò in qualche maniera non fece conferenze per cui a quel punto lì si mise l'anima in pace continuò la sua strada e fece il suo percorso sapendo ormai di aver perso il treno treno che però non perse lo stesso anno infatti come anche manuel dice seico non faceva conferenze fino a quel momento lì e invece quell'anno fece una presentazione ovvero per la presentazione del seico astron seico fece una presentazione a tokyo il 25 dicembre del 1969 e il sequo quarts astron 355 q è stato inequivocabilmente il primo orologio al quarzo della storia